Toro loco, hai quel fuoco, hai quel sole, le parole, col filotto, col lautaro, sei, due, uno, madonna che sofferenza, che sofferenza, mamma mia, mamma mia, suo toro, ha fatto sudare il nostro toro è stato grande contro il toro, toro contro toro, oh che bello, che bello, filotto, abbiamo fatto il filotto, mamma mia, mamma mia, saluto Ares, scusateci, scusate, saluto Alessio, saluto Daniele, i grandi tifosi del toro che vanno bestemmiato, lo so, però ce lo potete concedere, dai, ce lo potete concedere, è un'altra vittoria, comunque partita tosta, tostissima, difficile, sapevamo già, sapevamo già, sapevo già e già immaginavo, un primo tempo statico, fermo, occasioni proprio, parte la traversa del toro, poi del Torino, l'autora ha fatto un paio di tiri, poca roba, poca roba, però poi, l'unico modo per sbloccarla era un calcio da fermo, rigore, faccio lo santo, 1-0, questa qui, perché queste partite qua, purtroppo, contro se squadre che si devono salvarle di metà classifica, sono toste perché ovviamente lo giocano un po', un po' chiuse, ovviamente per non rischiare, cercano di chiudersi il più possibile, ovviamente, ma detto questo, detto questo, non si poteva pretendere di dominare la partita, perché comunque con un Torino che si deve salvare è ovvio che è difficile far gol, e quando si sblocca gli episodi, la si sblocca soltanto gli episodi, sapete qua, gli episodi derivati, il rigore, 1-0, poi gli dice, vabbè, ora possiamo andare ancora in avanti, no, il Torino si apre un po' di più, a Kimi si mangia un gol, è stato bravo Sirico in quel caso, per carità, però, è la 2-0, già è un'altra cosa, arriva sto 1-pari, così, dal nulla, tutti per terra, che cazzo è, bullying, Sanabria in mezzo a due difensori, 1-pari, ho detto, minchi, non stradados, ti prego, non stradados, non venire fuori, non venire fuori, 1-1 no, no, non è il risultato che volevo questo, e mi sono venuto un po' di paura in quel momento, perché ho detto, minchi, se la pareggiamo, mi girano un po' le palle, perché poi, magari la Juve vince, poi ci rosicchia un po' di punti, il Milan magari risucchia un po' di punti, o ma anche se pareggiano, comunque, non abbiamo allungato, quindi dà fastidio, perché vincevi 1-0, perdi due punti, ti fai già i calcoli, manca un quarto d'oro, alla fine, dici, eppure, cazzo, ora, possiamo, questa volta possiamo vincere, in qualche modo, minchi, a mente Sanchez, Metteri, Merix e Sanchez hanno cambiato la partita, meno male, che cambia, a volte servono, Sanchez a pennellare il Toro Martinez, boom, mi chiamano il lagolino, che bello, che bello ragazzi, ma non ci vedo niente, che bello ragazzi, che 2-1, più liberatori, uno di quelli più liberatori in assoluto, poi, abbiamo un po' sofferto gli ultimi minuti, perché, cioè, non è che poi una sofferenza vera e propria, però sappiamo che con queste palle vaganti, questi cross, così, possono essere decisivi, così come ha fatto il gol Cosoli, Sanabria, quindi, uno poi dice, alla fine, si sa mai, che poi qualche rimpallo, poi due pari, e poi i bestemmi, per tutta la settimana, però, però, quando l'Inter, quando una squadra, mince queste partite, perché, purtroppo, ragazzi, le partite non si possono dominare, non possiamo pretendere di fare, che l'Inter non ha fatto una grandissima partita, ma perché, semplicemente, tante volte, le avversarie impediscono di fare il tuo gioco, ma è giusto, ma è anche giusto così, perché non è che si può pretendere di fare sempre bel gioco, spettacolo, pipì e pipà, i passaggi, i palleggi, queste regole qua, non valgono, ogni partita è diversa, ogni partita va affrontata in modo diverso, ogni squadra è diversa, quindi, con queste squadre qui, lo si sblocca a episodi, lo si sblocca a colpi di fortuna, lo si sblocca a dei colpi di genio, dei colpi da campioni, e in questo caso c'è stato l'episodio e il colpo da campioni che ha fatto Lautaro su cross di Sanchez, perché fino a quel punto lì il cross nessuno le azzeccava, Peredic sminchiava di continuo, bastoni pure, Hakimi, partita 5 in Bagella, Kimi, 5 in una fatta, chissà che cosa, Barella, sì e no, così così, Brodovic, così così, diciamo, sono stati tutti un po' bloccati, però ragazzi, 8 vittori di fila, ora, per come arrivano, ok, magari, dice, vabbè, non si preoccupa, però ragazzi, non possiamo pretendere di fare sempre 2-3-0, quindi, un'altra partita cominciamo 2-1, quindi un'altra partita cominciamo con un gol di scarto, va bene, va bene, perché comunque qua i tre punti sono pesantissimi, perché con queste trasferte qua, che poi non ci sia il pubblico, lo sappiamo, però, comunque, è importante, è importante rimanere sempre su, ora, siamo a un punto nevralgico della stagione, quindi, vincere queste partite qua, in queste, in questo tipo di partite, è molto importante, sono punti che, che a fine campionata a maggio poi conteranno, perché poi, capitano poi che pareggiamo, perdiamo, quindi, su quel, perdiamo spero di no, ovviamente, pareggio spero di no, però comunque, prima o poi, dobbiamo dire, vabbè, abbiamo pareggiato, non possiamo vincere tutti, perché non c'è uno da incazzarsi nel caso in cui dovesse pareggiare, e quello continuo a ribadire, se avessimo pareggiato oggi, avrebbe dato fastidio a chiunque, perché vincevi 1-0, ti fai pareggiare, da fastidio dici, cazzo, vinci quello l'Atalanta, appena pareggi col Toro, ogni partita è diversa, ragazzi, quindi, questi punti qua, ci riteniamo ben stretti, i tre punti che pesano, proprio, che poi farli prima che giocano le altre, è ancora meglio, è ancora meglio, perché poi, psicologicamente, poi la Juve è lì che deve vincere, è lì a Cagliari che deve vincere per forza, anche quello è diverso, la situazione, quindi va lì che deve vincere per forza, ma magari vince lo stesso, però intanto noi tre punti li abbiamo fatti, il nostro l'abbiamo fatto, da lì anche il Milan affronterà il Napoli stasera, quindi deve affrontare il Napoli che è obbligato a vincere, che poi, vabbè, si sono arresi con lo scudetto, non lo so, vi ho già detto che il Milan mi preoccupo di me, non mi confondo la Juve, perché la Juve rompe più le palle, già lo sappiamo, quindi, avere già vinto oggi pomeriggio crea un grosso vantaggio, tra poco giocherà la Juve, quindi, ragazzi, proprio qui, in quello che è successo, ragazzi, queste sono tre punti d'oro, assolutamente, mi piace per il Torino, per carità, perché comunque ho amici torinisti, però, vince le tre prossime, comunque, spero, per voi, perché comunque non è messa benissimo, poi il Parma ha pure vinto con la Roma, pensate, la Roma ha preso col Parma, vabbè, poi magari lì Europa League, non lo so se è importante, stiamo a vedere pure la Juve in che condizioni è, anche perché si è fatta sopravventare in Champions League, anche se era martedì, però, comunque, ragazzi, va bene, va bene, va bene così, tre punti che valgono, anche questi valgono sei, purtroppo no, non valgono sei, però, ora, possiamo un attimo rilassarci, pensare un attimo, e da domani penseremo poi al Sassuolo, che è un'altra tipica delle partite con il Sassuolo, che è sempre, abbiamo vinto 3-0 l'andata, ma stavolta, anche giovessemo giocare in casa, non consideriamo che sia una vittoria semplice, perché è sempre tosto, sempre tosto, queste squadre qua, anche col Parma, con lo Spezia, insomma, sono partite che, Verona, Cagliari, tutte le squadre che, magari, vinci a valanga, ma non è detto che vinci sempre a valanga, quindi, persino col Benevento, io non mi fido, quindi, assolutamente, bisogna essere il contrario impossibile, Lukaku ha reso poco oggi, ma è normale, è normale, perché comunque quando c'è delle difese così, non riusciva a smarcarsi, e ovviamente, poi, oh, ci sono anche le avversarie, quindi, quando può essere un bravo giocatore, purtroppo, in alcune partite, non tutti rendono al 100%, però, oh, ragazzi, per quello che, per la partita che è stata, ottenere 3 punti oggi, sono veramente d'oro questi, non possiamo naturalmente da lamentarci, perché poi abbiamo giocato non speditamente, ma quello non è solo dovuto a noi, è dovuto anche agli avversari, e quindi, complimenti al Toro, che comunque ha perso comunque a testa alta, quello è da dire, bisogna dare anche merito agli avversari, anche quando perdono in questa maniera, perché comunque, fino all'1-1, in partita era ancora in bilico, ma anche sul 2-1, in ogni caso, perché, insomma, l'ho abbastanza sudata, abbastanza sudata negli ultimi minuti, quello sì. Comunque, ragazzi, noi ci vediamo domani, day after, così, giusto per commentare un attimo, per farci due risate, vediamo un po' che gli aiutati verranno fuori tra Cagliari-Juve e Milan-Napoli, così vediamo un po', siamo a qualche punto in più, non sarebbe, ma sarebbe veramente fantastico, poi, pensiamo a questo solo, tranquillamente. Forza Inter, inscrivetevi al canale, mi raccomando, anche su Instagram ci sono, quindi non mancate, noi ci vediamo domani con il day after, forza Cagliari, magari, magari. Ciao, forza Inter.